Perché il video con Sfera è sparito? Io ho un'idea, posso dirla? Hai fatto il video e non potevi fare il video? No, 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 spiega meglio, spiega meglio perché non c'è. Perché io ho ipotizzato. No, spiega, spiega di principio. Perché se no la clip non dobbiamo abbastanza. No, 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 anche quello. No, eh. Che merda di uomo. No, eh, no, perché la gente che ci guarda. Ma allora racconta lui. Tu racconta che cosa è successo e il tuo punto di vista. Cioè, dei mesi fa, lo youtuber Sinagagiri ha pubblicato un video in cui c'era Sfera in copertina, comunque Sfera, guè, così. È andato a questa cena, Daudemar Piguet, che è il marchio di orologi, penso, vabbè, lo conoscete tutti. E poi questo video è sparito. No, l'ho dovuto togliere? Ma, ma, cioè, è per quello che ho detto io? Pressa poco, non so neanche sta cosa se posso dirla sinceramente. E che hai fatto il video lì, Daudemar Piguet, non potevi magari far vedere certe cose? No, no, cioè, nel senso, sono entrato con una videocamera così, quindi tutti quanti hanno visto che potevo farlo. No, magari c'era qualcosa che non si poteva vedere, non lo so. Ma io posso non dirlo? No, non c'era niente che non si poteva vedere, però per determinati fattori. Che poi ti racconterai dopo la live, così almeno loro... Sì, sì, posso, no, posso dirvelo, non lo so se posso dirlo pubblicamente, niente di che, eh, non era né per gli artisti che c'erano, erano proprio più per un regolamento interno loro, del Daudemar Piguet, Pipe, 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 Pipe. Ma Zio, non puoi mettere in mutuo un secondo, ce l'ho detto. No, è una grande infamata perché ci stai guardando. E ora, ma noi siamo un po' infamati. C'è, sono quelle cose che le fai, cioè, sai che non stai facendo niente di male? E poi si sarà solo. Ma se sai cosa è successo veramente, fa straridervi e dici... Ma chi l'ha visto? No, niente, posso, mi credo, cazzo. Allora, io... Eh, proprio chi l'ha visto? No, quindi c'è un'intesa che io non sto cogliendo. No, non può essere.